Buongiorno, siamo a Roma in compagnia del professor Scollo. Professore, buongiorno. Parliamo di prevenzione del tumore della cervice uterina, quindi del collo dell'utero. Negli anni il PAPTest ha dimostrato sicuramente la sua importanza, ma adesso stanno un po' cambiando le cose. Lei è presidente della SIGO, quindi la società italiana di ginecologi ospedalieri. Vediamo che tipo di proposta per una donna oggi, nelle varie età della vita forse, perché è anche importante determinare che tipo di approccio man mano. Guardi, tutti quanti invecchiamo, quindi invecchiamo gli uomini e invecchiano anche i sistemi di prevenzione. Il PAPTest che per noi è stato un'arma importantissima, ricordiamo che si moriva di cancro del collo dell'utero non più tardi, 50-60 anni fa, in maniera anche superiore a quelle che erano le normali proiezioni statistiche. Il PAPTest ha avuto il grande merito di essere uno dei migliori mezzi di screening, perché risponde a tutti e tre i requisiti dello screening, cioè a basso posto, facilmente attuabile su tutta la popolazione, privo di effetti collaterali o di qualsiasi altra forma di resistenza da parte delle pazienti e inoltre attuabile su grandi scale. Nel tempo però ci si è accorto che nonostante il PAPTest abbiamo ancora cancro del collo dell'utero in alcune forme, anche in fase avanzata. E allora la scienza, la possibilità della ricerca, ha dimostrato, è un dato mai assodato, che il papillomavirus è fra i determinanti più importanti del cervico carcinoma. La ricerca sta continuando a dare degli ottimi risultati, fra pochissimo sarà in commercio anche il vaccino nonivalente, quindi non più il quadrivalente o il bivalente che eravamo abituati a somministrare in questi ambiti, quindi la ricerca sta facendo grandi passi avanti. E allora l'intenzione che in alcune nazioni già si sta portando avanti è quella di offrire il test per l'HPV e DNA a tutte le pazienti e in un futuro, noi speriamo non lontanissimo, di sostituire il PAPTest col test per l'HPV. Ci si rende conto che nonostante perciò la vaccinazione per esempio per l'HPV ancora non ha una capacità di penetranza all'interno della popolazione così come ci aspettavamo. L'Italia purtroppo è a macchia di leopardo come in tante altre cose, ma in questo in maniera particolare. E allora ci si è chiesti insieme al gruppo dell'Osservatorio Nazionale Screening di Firenze, all'Istituto Oncologico Fiorentino e al Gisci che è il gruppo di ricerca scientifica su questo argomento, insieme di metterci insieme per lavorare non solo dal punto di vista della informazione e che questo comunque ci compete, ma anche su quello della formazione del personale sanitario. Perché duole dirlo, ma certe volte, per non dire molto spesso, si hanno delle resistenze anche da parte del personale sanitario e non per motivi di dolo, probabilmente per motivi di poca conoscenza e quindi è compito nostro e della società dare questa informazione. Diamo anche qualche tappa di età per la vaccinazione, sappiamo molto giovani le bambine, quando iniziare un test virale fino a che età fare un pap test? Perché a volte anche poi ci sono delle differenze di approccio che fa sì anche questo ovviamente che ci sia anche minore aderenza nello screening? Come in tutte le cose purtroppo qui abbiamo visto gli eccessi, cioè gli eccessi in senso positivo e gli eccessi in senso negativo. C'è chi esegue un pap test ogni sei mesi, totalmente inutile, oltre che dannoso per la tasca, per la tasca di tutti quanti, non solo della paziente. C'è chi lo esegue ogni otto anni ed è altrettanto errato. Normalmente il consiglio se è un pap test non ci sono altri motivi di allarme, ripeterlo ogni tre anni, eventualmente ogni anno se c'è qualche motivo che è stato qualche sospetto o un allarme. Poi non dimentichiamo che è molto importante anche avere i centri di riferimento di secondo livello perché altrimenti rischiamo di fermarci al primo gradino e non salire la scala. Ecco i centri di riferimento di secondo livello sono fondamentali perché ci sono delle tappe che vanno dal pap test, l'HPV, la biopsia, la colposcopia, la LIP che sarebbe una mini conizzazione per cercare di guarire la paziente. Ricordiamoci che se noi siamo in grado di far diagnosi con una piccola conizzazione, ripeto che si fa a livello ambulatoriale e avere i margini del pezzo operatorio liberi, per noi la paziente è guarita, non è una paziente che deve sottoporsi ad ulteriori indagini o ulteriori rischi. È chiaro che sul papillomavirus bisogna fare prevenzione. Il papillomavirus si diffonde soprattutto per via sessuale e quindi io faccio sempre l'esempio del bambino che va in piscina e prende le verruche ai piedi camminando scalzo. Il dermatologo rimuove la verruca ma se continua a camminare scalzo riprenderà di nuovo la verruca perché non dà immunità e questa è la cosa più importante. E quindi comunque bambini anche molto giovani è importante anche una campagna forse di informazione. Delle mamme sappiamo quanto ci sia un po' un allarme vaccini perché comunque è importante invece far sapere che tipo di copertura può dare? Ma innanzitutto viene offerto gratuitamente alle bambine 12 anni di età. Io ho incontrato non più tardi di una settimana fa il sottosegretario all'istruzione dell'onorevole Faraone a cui ho presentato un progetto di educazione per la prevenzione delle malattie sessualmente trasverse nelle scuole. Il progetto prevede la formazione del personale, noi non abbiamo la pretesa di andare nelle scuole e fare lezioni ai ragazzi anche perché non ci sono i numeri e non avremmo questa capacità. Però quella di formare il personale insegnante e il personale docente questo sì, questo sì. E devo dire ho trovato ampia apertura da parte dell'onorevole Faraone e ci incontreremo nelle prossime settimane per vedere di sviluppare un programma comune. Bene, allora ci aggiorneremo per sapere di più. Grazie. Grazie. Grazie.